No, non mi arrendo, devo capire Da qualche parte L'unico posto dove può stare qualcosa Questo stato Oh NP NP Qua ci si è toccato Oh 5, 4, 2, 6 Via, via, andiamo 5, 4, 2, 6 Oh, adesso, che feo, questa era Buongiorno, arrivederci Andiamo Dove si va? Qua Qua, batteria Bene Facciamo un mostro Sono zombie, io lo so Ma va, che gatto Il tubo verde, perfetto Questa, non so che Ma che cazzo era Qualunque cosa sia Prendiamo tutto Poi E che? Ah Che faccia di cazzo Che ha questo tizio Io Non ci sei mai Ma non è che la moglie Perfetto Perfetto Abbiamo preso le Ok, la maglia Ok, la maglia Daddy Happy birthday, daddy Ah, bambini Sì, ma andiamo avanti Puoi piangere un altro Mento Tipo Che ha in testa La furfora Ok, qua pur dobbiamo prendere qualcosa di elettricistico Che io non valide vedere che lo so A mio padre Che non potesse sapere che io non... Che cazzo ne so io Direi che... Qua abbiamo preso tutto E' una l'ultima stanza Un'altra volta Se mi ci fa andare Non direi di no Non mi ci fa andare più Andiamo a vedere Se riusciamo Ma Allora Questa dove va? Qua? No Che ne sembra? Questa è qua Ok Una è messa Il tubo verde E' qui E' l'ultimo pezzettino Deve andare a farci Allà No Ah no Questo Tocco E' sto pezzettino? Ma che è soprattutto? Oh A posto Risotto Oh no Scusi Ui Ui Andiamo sopra Ascensori degli anni Quanti anni Quanti anni Ok Ok Apriamo Possiamo andare Siamo qui Siamo qui Arrivo Corri Corri Come corri poi? Fortellando Dai Forse che è l'ultima porta Una bomba quella No No Io continuo a pensare Che sia la moglie A fare questo scherzo Non vorrei dire No Non salti in aria Vero Che fai Dove vai Non è una bomba Quella Vero Però il suono Quello Sembra A me Sembra Come se la moglie Abbia fatto Tutto sto bordello Ti siedi Non fai proprio niente Per cercare di campare Per cercare di campare Cosa non ti genio Ah ok Perfetto Siamo liberi Come apriamo qua? Chi è qua? Ah Dobbiamo scavalcare Aspetta Fammi vedere Qua dentro Questa è la moglie Elastico Questa è Niente oi c'è un metodo deve esserci un metodo ora apriamo questo con questo no questo con questo no questo con questo no quindi questo no Un minuto. Io tanto lo so che questi cassetti si devono fare in un certo modo. Abbi. Oh! No, aspetta. Un minuto. Un minuto. Tre. E quattro. Sì! Ma posso? Cos'è? Potremmo usarle con l'elassino? Un minuto. Un minuto. Un minuto. Sì, come no. Che palle. Non posso mai fare veramente essa stronzata. Vai! Maafanko! No, capullo. Sì. Warda lho! Maverita. Un minuto. Lo so! Uh! Corri! Corri! Qué succes? Un'altra colonna? Niente! Un minuto! Niente! Nostra bomba va rito! Corre, corre! Corre! Corre, chai! Cheggi, corre! Sto facendo un po' maluccio. Però è vivo, tutto a posto, niente è successo. In the next episode... È finito! Bello! 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 Accigliato! È un minuto! Cheggi, in questo... Ci sono più... Ci sono più... Deve l'affrontare. È un po' maluccio. Non c'è chi? Ma è... Ok, siamo tornati dalla polizia, siamo vivi, tutto va bene. Si va avanti. Bene, l'episodio è finito, quindi il gioco termina qua. Se avrò la possibilità prenderò anche gli altri. Non ho ancora visto se ci sono su Steam, se sono già usciti soprattutto. Quindi, beh, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!